Il Signore che vive regna nei secoli dei secoli, ameno, il Signore ci benedica e ci esaurisca, ameno, andiamo in pace. Ricordo che questa sera, alle 18, c'era solenne via Crucis, la Chiesa resterà aperta fino alle 22 per il bacio del Crucifisso e adesso in avanti per le confessioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.